Buona visione da Sakobad, la tua nuova casa ti aspetta in via Cupafilette a Batipaglia. Fatti ed intorni oggi è in esterna, siamo praticamente all'istituto Ferrari con la dirigente Daniela Palma per raccontarvi di una a due giorni, quella di venerdì e sabato, per un evento che si chiama Automotive al circuito del Sele. Questo per raccontarvi quanto è importante oggi il rapporto tra la scuola e le aziende, questo per raccontarvi anche quanto è importante la formazione di ciascun ragazzo affinché alla fine della maturità, quindi alla fine del corso di studi delle superiori, possa riuscire a entrare facilmente nel mondo del lavoro, perché i ragazzi oggi sono un valore aggiunto, non lo dimentichiamo mai. Adesso andiamo nella sala della conferenza per cercare di capire bene di cosa stiamo parlando ed ascoltare i protagonisti di queste due giorni. E al Ferrari come sempre tante novità e tante iniziative che mettono un po' in collaborazione, mettono insieme le aziende, le imprese con la scuola, che è poi un po' quello che dovrebbe essere insomma la missione di un istituto scolastico. E al Ferrari questo succede spesso. Che cose avete pensato per questo appuntamento voi del CNA? Allora la CNA, l'Organizzazione degli Artigiani, ha fortemente voluto questo incontro perché abbiamo bisogno di un ricambio generazionale in officina. Abbiamo bisogno di nuovi imprenditori che sappiano dialogare con l'innovazione tecnologica che ormai investe il settore dell'automotive a 360 gradi. Quindi questo momento, questo Open Day è per puntare i riflettori su un settore in forte crescita ma che va sostenuto con una forza lavoro nuova rappresentata dagli studenti del Ferrari che devono andare ad integrarsi nelle attività delle migliaia e migliaia di officine presenti nella provincia di Salerno. Un settore che ha bisogno di innovazione sia a livello di risorse umane sia a livello tecnologico. Quindi chiaramente oggi come oggi i giovani che a volte insomma se ne parla non sempre molto bene qui invece rappresentano e possono rappresentare un valore aggiunto con un corso che va a formarli perché chiaramente parte prima dalla formazione nella scuola e poi la formazione diventa anche in azienda. No, no, non c'è bisogno di un corso in più. È già la maturità che prendono in questo istituto perché questo è un istituto professionale per l'artigianato con un indirizzo in meccatronica che è già il requisito fondamentale per avviare un'attività di impresa. Ed è per questo che il primo appello è rivolto a loro, agli studenti, cioè impegnarsi in quello che fanno per essere già degli imprenditori pronti ad aprire un'autofficina, un centro di revisione. Insomma ci sono tante declinazioni per la loro attività e per il loro indirizzo di studio. Da parte degli imprenditori c'è questa apertura mentale di aprire le porte delle proprie aziende a ragazzi che magari escono sicuramente da una formazione importante con l'indirizzo di meccatronica ma che fondamentalmente non hanno ancora l'esperienza sul campo? Allora c'è questa apertura mentale ma soprattutto c'è una legge che glielo impone nel senso che noi conosciamo la legge 122 poi 224 che ci dice che adesso l'officina deve essere tenuta da un meccatronico, cioè una persona che si intenda sia della parte elettronica che della parte meccanica. Adesso esiste questa figura, quindi i nostri imprenditori, quelli di vecchia generazione si stanno adeguando a questa norma attraverso dei corsi di specializzazione oppure potrebbero assumere del personale con degli incentivi che esistono oggigiorno per i nostri giovani e avere insomma quel quid che serve perché i motori sono cambiati, perché è un settore e ripeto in grande fermento e perché forse il vecchio imprenditore è meglio che si fa affiancare da questi giovani però ci vuole serietà, impegno che è quello che chiediamo a tutti. L'apertura mentale della dirigente Daniela Palma, come si è inserita in questo percorso? L'apertura mentale di questa dirigente che conosciamo bene in realtà non è che si inserisce, è in sé questa unione, c'è una grandissima integrazione tra le attività di questa scuola e il nostro mondo dell'artigianato, quindi diciamo che è una fusione che già è di per sé unita. Grazie alla dirigente Daniela Palma riusciamo a dare luce a questi percorsi che magari a volte ci sono sulla carta, si sottintendono, però non riusciamo veramente a viverli appieno. Perché le opportunità vanno poi rese note e questa cosa noi stiamo cercando di farla attraverso questi due giorni. L'approccio noi vediamo, credo siano ragazzi di quinta, ma magari li riprendiamo dopo. Effettivamente loro come prendono, come si pongono di fronte a queste opportunità? Cioè riescono a cogliere, sempre parlando a volte di un momento particolare della loro vita, quella che è i 19 anni, quindi magari non pensano al futuro, però effettivamente, magari poi lo chiederò anche a voi, riescono a comprendere la forza di un evento del genere, ma un evento che ovviamente poi porta a questa collaborazione con le imprese? Ma io posso solo sperarlo, posso solo sperarlo perché veramente gli sforzi li stiamo facendo per loro e per i nostri imprenditori associati. Cioè noi stiamo facendo da pungolo a questi due protagonisti sul piatto della bilancia. I giovani che sono futuri imprenditori e gli imprenditori che, ripetono, magari sono piccoli, però ce ne sono veramente migliaia in provincia di Salerno. Noi non abbiamo le grandi aziende dove possono entrare questi meccatronici come può esistere al nord. Noi abbiamo questo tessuto imprenditoriale e dobbiamo lavorare su questo. Il focus deve essere su questo tipo di impresa, quella piccola, quella che ha tanta dinamicità. Veramente lo stiamo facendo per il vostro indirizzo, perché con Daniela in passato abbiamo già collaborato sull'indirizzo. Un istituto che pensa al futuro dei ragazzi attraverso degli indirizzi che consentono l'accesso immediato al mondo del lavoro. Sicuramente. Noi innanzitutto dobbiamo fare una distinzione. Oramai, ai nostri giorni, non esiste più quello che c'era una volta nell'Ipsia, l'elettronica, l'elettrotecnico, il meccanico e anche l'informatica. Adesso parliamo della meccatronica, quindi che è un tutt'uno. Se pensiamo soltanto alla domotica, pensiamo a queste macchine che ormai governano le nostre case, oltre alle nostre auto, automobili, che avranno adesso un futuro diverso da quello che c'era precedentemente, come già vi avranno meglio di me spiegato. Quindi è un settore che non solo prepara per il mondo del lavoro e che ha un immediato riscontro, è una fetta di mercato assolutamente libera. Se i nostri ragazzi riuscissero a comprendere questo, avremo, senza esagerare, ma un 60-70% in meno di persone disoccupate. E questo lo possiamo... siamo stati ultimamente a Didacta, alla Fiera del Digitale per la Didattica, appunto. E c'era il responsabile della Fondazione Agnelli che ha ben chiarito questo aspetto. Noi abbiamo tutta una serie di possibilità di sbocchi lavorativi che sono nuovi, dai quali non si pensava minimamente fino a qualche tempo fa. Ma possiamo anche dire che una scuola come questa, non solo la nostra, ma tutte le scuole che hanno questo settore, possono preparare efficacemente anche per l'università. Vi voglio raccontare una favola stamattina, perché è stato mandato a me il messaggio per raccontarmela e ve la trasmetto. Mi è arrivato il messaggio di uno dei loro compagni che si è diplomato l'anno scorso, ringraziando me, la scuola e i suoi docenti, perché è riuscito a realizzare il suo sogno, voglio anche citarlo, Mohamed El Fattaki, perché è entrato all'Università di Boston. Quindi veramente abbiamo delle potenzialità enormi che non sfruttiamo adeguatamente. Questo incontro, questa due giorni, serve proprio per far comprendere queste potenzialità a tutti i ragazzi del territorio e far comprendere che non esistono soltanto determinate scuole da cui poi si può accedere anche all'università, ma allo stesso tempo anche al mondo del lavoro, dobbiamo conoscerle, dobbiamo trasmettere questi concetti a quante più persone possibili. Per questo evento di venerdì e sabato avete anche coinvolto degli sponsor importanti. Sì, addirittura c'è quattro ruote, come vi ha già detto Simona. Ci sono i responsabili politici che si occupano di questo settore, perché ovviamente sono situazioni che vanno indirizzate anche dal punto di vista politico. Rilevare l'importanza di un settore piuttosto che un altro, significa orientare anche determinate scelte da parte dell'utenza e anche coordinare i servizi, pensiamo ai centri di revisione, pensiamo a tutto ciò che attiene ai trasporti, alla viabilità, per cui è imprescindibile l'intervento politico, così come è imprescindibile quello delle aziende. Abbiamo veramente aziende importanti del territorio, non ne voglio nominare una perché potrebbero poi essere dispiaciuti gli altri, però vi invito a venire per poter conoscere quello che queste aziende fanno, come la nostra vita può essere anche facilitata dall'utilizzo di taluni strumenti piuttosto che altri e quindi avere anche una maggiore conoscenza di questo settore, anche da parte di persone non esperte, magari i ragazzi insieme ai genitori e comunque tutte le persone che vorranno venirci a trovare. Come si svolgerà l'evento? Ci saranno la mattina, ci sono le scolaresche, a questo proposito voglio ringraziare il Comune di Bellizzi e il Comune di Battipaglia che hanno messo a disposizione il trasporto dei ragazzi delle terze medie delle scuole di Bellizzi e di Battipaglia e che saranno accolti dai nostri fantastici ragazzi di Quinta e sorridenti ragazzi di Quinta con i loro docenti e che avranno modo di sperimentare qualcuna delle attività che vengono svolte durante il programma di studi della Meccatronica. Ci saranno accolti anche da una colazione salutare, la mattinata trascorrerà con questi interventi didattici e poi il pomeriggio, il venerdì e il sabato ci saranno gli interventi degli addetti ai lavori attraverso dei convegni, delle masterclass per confrontarsi, per apprendere, per crescere insieme insomma insieme alla CNA e alla Confederazione Nazionale Artigiani che peraltro c'è sempre vicina in ogni iniziativa e alla Camera di Commercio di Salerno. È una figura inquadrata in una direttiva europea, quindi l'ispettatore per i controlli tecnici periodici è una figura di lavoro europea. Sicuramente oggi la scuola rappresenta un vantaggio nel momento in cui si creano dei corsi, come in questo caso degli indirizzi ben specifici, per poter entrare nel mondo del lavoro. Quanto è importante per voi questa collaborazione con le scuole e quanto è importante l'accesso di questi ragazzi appena usciti dalle scuole? È importante perché oggi abbiamo un'innovazione tecnologica che giorno per giorno porta a dei continui mutamenti in quello che è il settore dell'automobile. È normale quindi che ci sia una preparazione e di base e soprattutto anche in campo. La scuola dà la formazione di base e poi è sul campo che è necessario che i ragazzi vanno ad applicare quella che è la teoria. Questa collaborazione, grazie a CNA e grazie all'Istituto Ferrari, cerca di dare ai ragazzi e ai giovani studenti i giusti, le giuste informazioni e la giusta pratica per poter poi arrivare a poter gestire autonomamente quelle che sono le problematiche del mondo delle automobili moderne. È importante che ci sia pure un ricambio generazionale all'interno delle officine, proprio in virtù proprio di questo, che le tecnologie sono diverse da quelle degli anni passati e sono in continua evoluzione. È importante che ci sia pure un approccio diverso all'attività di autoriparazione e quindi questo è un grande punto di forza che ci dà la possibilità come aziende di dare sempre un servizio migliore ai nostri clienti. Come approccio i ragazzi quando iniziano il lavoro? Come si approcciano? Che tipo di atteggiamento hanno? Allora, oggi rispetto ai ragazzi di un tempo forse l'approccio è un po' diverso, nel senso che prima chi si recava in officina aveva timore del datore di lavoro. Oggi l'approccio è sicuramente un po' più informale, esatto, perché appunto l'importante è creare il clima giusto all'interno dell'attività per ottenere risultati migliori. L'importante è rimanere concentrati su quello che si fa, perché si fa comunque un lavoro delicato, è sempre più elettronico e quindi è importante mantenere la giusta attenzione. Automotive, l'open day dal circuito del Sele, vede protagonisti anche degli sponsor importanti, aziende importanti del territorio come appunto Innotec. Come vi inserirete in questo contesto, come vi organizzate per questi due giorni importanti? Allora, noi esporremo con i nostri marchi più importanti, ci saranno degli stand con i nostri marchi e allestiremo anche una piccola officina proprio per i ragazzi per far vedere un po' come è il mondo del meccanico, la figura del meccatronico. Cercheremo di spiegare e cercheremo di spiegare anche come questo settore ha subito una forte evoluzione tecnologica. Ci saranno strumentazioni ad alto tasso digitale, come il Digital Dallas e ci saranno anche dei mini corsi che faremo per i nostri clienti che verranno comunque a vedere le nostre esposizioni, a seguire i corsi e anche per i ragazzi che verranno il venerdì e il sabato. Sicuramente i ragazzi che sono un po' più proiettati alla digitalizzazione, magari queste nuove tecnologie sono più portate o no? Sicuramente sì, rispetto all'imprenditore, al meccatronico che è nato 20 anni fa, 30 anni fa, i giovani sono più avvantaggiati, ma questo non vuol dire che non c'è bisogno di studio, non c'è bisogno di dedizione. La scuola è fondamentale. Una volta usciti dalla scuola c'è bisogno di continua formazione, infatti noi facciamo anche molti corsi di formazione per i ragazzi e per gli imprenditori che già hanno iniziato questo percorso, perché è fondamentale, è uno dei settori che ha subito di più l'impatto tecnologico, il cambiamento tecnologico e ne subirà sempre di più. Roberto, nome e cognome te l'ho già detto io, quindi Roberto Esposito, classe? Quinta MMT. MMT che sei? L'utenzione mezzi di trasporto. Come mai hai scelto questo indirizzo? Perché dopo le medie cercavo una scuola professionale che mi desse una formazione all'uscita e che mi permettesse di lavorare appunto. È una scuola che dà le capacità, quindi sono molto contento. Per inserire velocemente il mondo del lavoro. Poi avete voi già fatto delle esperienze di alternanza a scuola lavoro, a te dove è capitato di andare? Una fabbrica sulla zona industriale di Battipaia, Mega SRL, si occupa di metalli, appunto lavorazioni metalliche, acciai, ferro e tutte queste cose e le competenze scolastiche mi hanno dato un aiuto nell'inserirmi nell'azienda. Quindi non hai avuto difficoltà, sei andato, ti hanno spiegato il lavoro e tu sei riuscito a farlo. A livello teorico ero molto preparato perché la scuola ci forma proprio in questo e quindi ha compensato e anche a livello pratico abbiamo potuto esercitarci in alternanza. Senti, quindi che cosa vuoi fare da grande? Personalmente spero di andare all'estero a lavorare, anche a Nord Italia perché è un lavoro molto richiesto, anche la tornitura, i lavori manuali sono molto richiesti e rendono anche bene a livello economico. Senti, però io vedo che siete tutti maschi, è un tipo di attività che le donne non possono fare secondo te? Io mi auguro che le donne comprendano che è un settore aperto a tutti perché è molto istruttivo e forma bene. Anche perché ci hanno detto che c'è molta digitalizzazione, quindi non c'è un lavoro di forza, per cui anche le donne serenamente lo possono fare. Sì, noi progettiamo anche al computer disegni in 3D, lavori progettati appunto al computer e non c'è uso di forza. Allora ci vediamo o diglielo? Ci vediamo venerdì e sabato al circuito? Venerdì 18 e sabato 19 al circuito del Sele, mi auguro che siano in tanti. Questo tipo di eventi, di incontri sono sicuramente molto formativi e consentono anche di avvicinare le aziende del territorio alla scuola e quindi far capire e far comprendere ai ragazzi che dopo la maturità si può accedere facilmente al mondo del lavoro se si è fatto un percorso fatto bene. Il centro di revisione in questo senso è presente per quale motivo? I centri di revisione sono presenti perché è un'occasione di confronto innanzitutto in quanto parteciperà anche la motorizzazione civile con l'ingegner Grandone che è responsabile per i centri di revisione per la motorizzazione civile e che in buona sostanza spiegherà tutte quelle che sono le novità per quanto riguarda gli operatori. Gli operatori si avvicinano in questa veste all'evento e in ogni caso per ricollegarci a quello che è il contatto tra il mondo dei centri di revisione e il mondo della formazione è particolarmente importante perché proprio in questo momento c'è una direttiva europea che impone che gli ispettori, cioè coloro che effettuano questo tipo di controllo periodico sui veicoli debbano avere un background formativo adeguato per esperire questo tipo di controllo e questo rende questa figura molto professionalizzata e può essere interessante, un interessante sbocco per i ragazzi di un istituto professionale con questo indirizzo che hanno i requisiti di base per poter fare questo lavoro. Arrivederci da... Sacobad, la tua nuova casa ti aspetta in via Cupafilette a Batipaglia